Musica Bene ragazzi sono Daryl e sono qui con un nuovo video e oggi siamo con un video un po' diverso dal solito perchè è la prima volta che porto questo video sul nostro canale ed è Cat Mario voglio vedere se vi piace il fatto che io giochi a questi giochi o se non vi piace quindi voglio vedere un attimo la vostra risposta a questo e quindi fatemi sapere poi alla fine del video se vi è piaciuto o meno perchè se vi è piaciuto ne farò altri se non vi è piaciuto finirò perchè vorrei dire che non so buono a fare queste cose quindi non mi piate a parolacce io ce provo famosi giochi e vediamo come va allora tanto qua con il grande conoscitore del cinese vado il primo coso come cazzo si chiama allora allora vabbè inizio è semplice no perchè poi ho visto già sto gioco da altri youtubers no perchè apparentemente lo fanno tutti e quindi so un po' cosa mi aspetta ma non è che so precisamente tutti i livelli come so che cazzo è successo allora quasi salvo ecco adesso siamo calmi perchè all'inizio no quindi non 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 facciamo niente no va bene così oddio oh sei riuscito a prendere qualcosa là sono grande vabbè ma dai cominciamo bene insomma allora andiamo sparati qua eh tanto ormai lo sapevo com'è occhio qua o le ma qua si può entrare tipo ah si può entrare ho capito ma che cazzo e va bene sono stato trollato giusto ok 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 oh porca puttana meno uno dai oh attenzione peci peci questo potrò prendere o no oh che sciapazzo oddio mo ricordamo se questo casca mamma mia oddio sessione bandierina presa quindi checkpoint andato astellina una stellina di merda bene vabbè su mamma mia mi sta appiappando per culo e dai su allora toccasata lì sopra oddio qua sicuro ci sta qualcosa infatti e che porca puttana no eh vabbè allora stronzo addio mondo bene meno 5 no mamma mia no oddio 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 come se scende come se scende mi fai morire posso morire posso morire posso morire posso morire non mi fa morire no ah grazie allora con calma questi sono cascano e stronzi scendi scendi vai 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 vieni vieni ore attenzione attenzione ce la fa ragazzi pezzi rari ce oh non sono morto vero che cazzo è successo là è vero cazzo fammi morire veloce no no lo sto riuscita perché ce l'avevo fatta a cristo mo basta questa la devo fare tutta da infiato ce la faccio più questa la devo fare tutta da infiato ve lo dico ve lo ripeto tutta da infiato mamma mia proprio veloce veloce così dai pezzi 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 ce l'ho fatta ce l'ho fatta e ho capito ma che cosa devo aaaah forse ho capito e che cazzo sempre qua e vabbè ma sono un coglione che cazzo è successo che cos'è è un bug all in e stavolta e stavolta si eh ma non è la fine qua come si finisce il gioco ah ok non lo posso più finire non vedete no 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 cadi mannaggia mannaggia la miseria ho con molta calma olimpica cioè pure il bug l'ho sfruttato raga era proprio una perfetto così oddio no mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia basta poi sta musichetta che sta entra nel cervello proprio non ce la faccio più dai su questa volta buona mi sento e deve essere la volta buona allora guardiamo se è chiaro cut ce la dobbiamo fare tutto perfetto con calma non ti fa prendere proprio da da nessuna da nessuna cazzo di frutta basta eh mo basta da raga meglio non lo so fa apposta allora adesso così 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 porca eva allora oddio a porca puttana единこの меня tornare red qui ho qui l sc~! l また la Mamma mia Questi bug Ce la fa Dai E siamo appena al primo livello Per farvi capire Comunque Il primo episodio di Cat Mario è finito Voi mi fate sapere Come se vi è piaciuto Questo video Perché se vi è piaciuto Faccio il prossimo episodio E niente Sperando che vi piace Passate sulla pagina Facebook e condividete il video Mettete mi piace Noi vediamo al prossimo Bella